Buongiorno a tutti, colbio di oggi torniamo a parlare di documenti diplomatici italiani del Regno del Sud e specificatamente di un appunto segreto di Prunas, che come sappiamo è il segretario generale agli affari esteri che rivolge a Salerno al ministro degli esteri, nonché il capo del governo Pietro Badoglio. È un testo che seppur secondario nell'economia delle relazioni diplomatiche italiane, che sappiamo in quei giorni, in quei settimane sono particolarmente attive nei confronti degli alleati occidentali, ma anche verso l'Unione Sovietica in senso prospettico, ovviamente anche tattico però riguardano ovviamente la consistenza dell'Italia all'interno di una possibilità di contare un po' di più o di essere penalizzata un po' di meno rispetto a quello che ancora persiste nelle durissime clausole armistiziali del settembre 1943. Quindi capiamo come altri temi potrebbero essere in qualche modo secondari, abbiamo avuto modo di esaminare, ma ripeto, non li ho trascurati, le relazioni con la Spagna, le relazioni con il mondo dell'America Latina che in qualche modo, seppur ripeto, non offrono una risposta chiara, immediata, delle esigenze che vi possono essere appunto nella realtà politica interna ed estera dell'Italia, del Regno d'Italia, in qualche modo però ci offrono uno spaccato, una complementarietà più ampia. Nello specifico il documento di oggi, questo appunto segreto, riguarda qualche interesse, una qualche collaborazione, forse strumentale, forse in qualche modo accidentale della diplomazia italiana nella causa romena. La sappiamo come la Romania tra il 1939 e il 1944 ha avuto una serie di oscillazioni, tra l'altro abbiamo avuto modo proprio di parlare qualche giorno fa del tema della Bessarabbia che in qualche modo ci ha anche offerto un taglio un po' più profondo delle dinamiche degli smottamenti territoriali, politici che avvennero dal, diciamo, grosso modo dal 1935 in poi, no? Tutte le rivendicazioni tedesche al sistema di Versailles, quindi anche la possibilità di rioccupazione della Renania, l'occupazione dell'Austria, l'affare dei Sudeti e poi lo smembramento della Cecoslovacchia e quindi tutti elementi che in qualche modo sono andati a... gli vari ingrandimenti dell'Ungheria che appunto ovviamente influiscono in qualche modo, la spartizione della Polonia, quindi sono tutti dei temi che in qualche modo hanno pregiudicato e hanno sconvolto la realtà danubiano-balcanica, possiamo dire, poi ovviamente ci sono altri elementi, l'occupazione e l'invasione della Jugoslavia, prima l'invasione della Grecia, quindi sono tutti elementi che in qualche modo si combinano insieme in un desiderio di smottamento dell'intera area, non solo balcanica, ma anche che riguarda magari la zona proprio completa tra il Mar Nero e il Mar Baltico. In questo contesto la Romania come si colloca? La Romania si colloca che ha prima un atteggiamento attendista, che in qualche modo cerca di trovare una conciliazione in modo svipendi con la Germania, per poi gradatamente vedere che le mire sovietiche, che appunto pregiudicano poi soprattutto il discorso la besta rabbia, ma anche quelli ungheresi che mettono in discussione e si appropriano della Transilvania, creano da parte della Germania la necessità di dover in qualche modo prendere una posizione e in quel caso che si affida proprio mani e piedi all'asse, alla Germania, poi appunto con la partecipazione militare sostanziosa contro le Unie sovietiche e tutto ciò che ovviamente consegue nella parte prospettica e poi nella parte di arretramento nel 43-44. Prima di leggervi il documento però di Prunas, io vorrei leggervi da questo volume che posseggo, La Romania nella guerra anti-hitleriana 1943-45 e Editori Riuniti. Io mi rendo conto che è un libro di parte o comunque scritto nel 1969, l'edizione italiana del 74, da parte di Editori Riuniti, che ovviamente ha una sua componente anche politica ben chiara e nella sottoindicazione in collaborazione con gli istituti studi storici sociali e politici di Bucarest, un volume collettaneo che ci dà però secondo me un elemento interessante per capire un po' anche il documento di cui stiamo per leggere il testo e qui diciamo che vi leggerei una parte breve del paragrafo intitolato Organizzazione dell'insurrezione antifascista. Quindi siamo arrivati al 44 con questo impegno dopo il colpo di Stato, dopo l'Antonescu nel 40, con appunto poi l'intervento nel 41, il passaggio della monarchia da Carlo a Michele, quindi sono i benimenti che li diamo per buono, nel senso che la Romania vive una situazione molto simile a quella jugoslava, in cui ci sono dei colpi di Stato, in cui dei manipoli militari cercano di prendere il potere per indirizzare da una parte o dall'altra la situazione, seppur ovviamente a contrapposizioni rispetto magari alla Jugoslavia. Ai primi del 1944 nella situazione romena intervennero nuovi ed importanti sviluppi, la crisi del regime dittatoriale si era andata approfondendo, il territorio nazionale era ormai ideato di guerra, terrestre ed aerea, ed era in atto un processo di disorganizzazione dell'attività economica e della vita pubblica. Uno stato di preoccupazione, di timore e di incertezza serpeggiava nell'apparato statale, soprattutto negli organi di repressione. Battute dall'esercito rosso e schiacciata dal territorio dell'Unione Sovietica, parte delle truppe itleriane si erano ritirate in territorio romeno. Il saccheggio delle ricchezze nazionali, già enorme negli anni precedenti per la completa soggezione economica alla Germania itleriana, raggiunse proporzioni gigantesche, allorché le unità tedesche occuparono praticamente il paese. E al saccheggio si aggiunsero innumerevoli atrocità. Tutto ciò non fece che aumentare il malcontento delle masse popolari, scatenando un'ondata ancora più forte di osterità nei confronti della Germania itleriana e del regime dittatoriale di Antunescu. Tra l'altro bisogna dire che le truppe romene che invasero l'Unione Sovietica si macchiarono tra l'altro di ecciti nei confronti degli ebrei autoctoni. Se non ci fu una persecuzione degli ebrei in territorio rumeno, quindi propri connazionali, ci fu delle atrocità immense in territori stranieri di occupazione. Le truppe di Antunescu si macchiarono anche di questo. Ci fu una ondata di agitazioni nelle fabbriche e nelle officine che suscitò profonda preoccupazione nei capi fascisti e nei loro accoliti. I contadini si opponevano decisamente alle misure adottate da regime e reagivano sempre più spesso al saccheggio e alle prepotenze commesse dagli itleriani. Un segno dello stato d'animo degli intellettuali è costituito dal memoriale inviato ad Antunescu nell'aprile 1944 da 69 membri del corpo accademico nel quale si chiedeva l'immediata uscita della Romania dalla guerra itleriana. Estremamente importante per le forze che intendevano schierare la Romania con la coalizione anti-itleriana era l'approfondirsi dello spirito antifascista delle figlie dell'esercito. L'ostilità dei militari romeni nei confronti degli itleriani si traduceva sempre più spesso in scontri armati. Superata in più punti la frontiera romena, l'esercito sovietico aveva liberato fino a metà dell'aprile 1944, quindi stiamo parlando di 80 anni fa grossomodo, diverse province del nord-est del paese. Il 12 aprile 1944 il governo sovietico propose al governo di Antunescu un armistizio che però non fu accettato. Fra i comunisti si rafforzò ancora più la convinzione che l'unica via di salvezza era quella di abbattere la dittatura militare fascista con la forza, con l'insurrezione, per schierare la Romania con la coalizione anti-itleriana. Quindi questo è un po' il quadro che esiste nell'aprile del mio 144 a proposito della possibile decisione da parte della Romania di sganciarsi, di fare un ribaltamento, un po' quello che era successo all'Italia nell'estate del 1943, grossomodo, non ci sono grosse differenze. Allora appunto adesso con questa cognizione di causa possiamo andare a leggere questo breve appunto segreto di Brunas a Badoglio. Ho parlato con Kostilev, Mikhail Kostilev era l'ambasciatore sovietico in Italia in quel periodo, diciamo che è un'autorità importante dell'apparato sovietico appunto di relazione con il governo Badoglio, quindi ho parlato con Kostilev della situazione romena. Gli ho soprattutto sottolineato, punto primo, che il ministro Bova Scoppa, Bova Scoppa era l'ambasciatore italiano a Bucarest dal 1941, è sempre rimasto in cortiare i rapporti col presidente Antonescu e che anche se sarà costretto a lasciare Bucarest resterà ad Ancara, dove continuerà a rappresentare il reggio governo presso quello romeno. C'è una ipotesi di variazioni nella componente di relazioni diplomatiche dell'Italia. Punto secondo, che ci sono dei progetti per organizzare la fuga del re Michele e dello stesso Antonescu dalla Romania e per la successiva proclamazione da parte di essi di un armistizio con gli alleati e della resistenza armata contro la Germania. Sappiamo che questo si realizzerà nei mesi successivi con una sorta di colpo di stato dello stesso re Michele che appunto defenestra Antonescu con quello che poi accadrà, l'invasione sovietica e tutto ciò che ne consegue. Quindi diciamo che è un elemento abbastanza complesso e per qualche aspetto molto simile a cui l'italiano. Quindi è interessante come l'esperienza dell'estate del 1943 in Italia produce anche una sorta di precedente per altre monarchie dittatoriali assoggettate o comunque affiliate alla Germania. Punto terzo, che se tali fughe non fossero possibili un gruppo di romeni residenti all'estero, Tilea a Londra, Pangal a Lisbona eccetera, intenderebbero costituirsi in governo libero provvisorio romeno allo stesso scopo di dichiarare l'armistizio e organizzare la resistenza contro i tedeschi. Quindi diciamo che è interessante anche questo, una simiglianza con quello accaduto in Italia dieci mesi prima. Ci risulta che tali romeni liberi desiderebbero che ciò avvenisse in Italia dove essi vorrebbero essere autorizzati a trasferirsi. Quindi diciamo che sì, tutto questo discorso porta a inserire l'Italia nelle dinamiche anche della Romania per cattivarsi magari dei crediti nei confronti dell'Unione Sovietica. Io in qualche modo collaboro, aiuto a che la Romania esca dal conflitto, cosa che avvantaggerà sicuramente l'Unione Sovietica e avvantaggerà la Germania e quindi in qualche modo puoi essere contenta a Mosca che io mi occupo anche di questo. Punto quarto, ci risulta che tali romeni liberi desiderebbero che ciò avvenisse in Italia dove essi vorrebbero essere autorizzati a trasferirsi. Le parole pronunziate dal signor Molotov nei confronti della Romania coincidono con i propositi italiani nei confronti di quel paese. Se si ritiene da parte russa che i progetti di cui sopra possano avere attuazione, il ministro Bavaskoppa potrebbe forse essere un utile tramite strumento per porli in esecuzione. Kostilev ne riferirà a Mosca. Quindi è interessante di come l'Italia con tutti i problemi che ha, con tutte le difficoltà, con tutte le incapacità di farsi sentire a destra e a Manca, trova il tempo, la voglia, l'attenzione, la forza per poter cercare delle alternative, appunto gli alternativi crediti politici, in questo caso nei confronti di Mosca, cercando di essere una sorta di intermediario, di facilitatore, non so, negoziatore, chiamiamolo come ci pare, nei confronti dell'inevitabile passaggio, diciamo ribaltamento di alleanza che si sta producendo in Romania. Quindi questo è un elemento interessante che in qualche modo che inserisce le relazioni italiane di quella primavera del 1944 all'interno di dinamiche molto più complesse, molto più articolate, molto più prospettiche rispetto a quello che sarà poi il disegno, la ricomposizione dell'Europa orientale, appunto la Romania cadrà sotto la protezione, chiamiamola così, del mondo comunista, dell'Unione Sovietica, con tutto ciò ovviamente che ne consegue, con un'analisi anche prospettica nei confronti dei rapporti est-ovest, soprattutto nella realtà così delicata, così effervescente della zona dell'Umbieno-Balcanica, che poi appunto ci permette anche di fare dei discorsi anche più vicini all'attualità, così se le vogliamo fare, appunto abbiamo analizzato l'aspetto del confine col mondo ex-sovietico, la Bessarabia, l'Ucraina, quindi in qualche modo questo elemento importante, ma anche ovviamente l'affaccio sul Mar Nero che appunto offre degli spunti interessanti appunto nel recente, negli ultimi anni, negli ultimi vent'anni dell'ingresso della Romania nell'Unione Europea, nella Nato, con tutto ciò ovviamente che ne comporta a livello anche di geopolitica, appunto di analisi e quindi diciamo che ci dà anche una chiave di lettura di come la storia ci offre delle importanti considerazioni che in qualche modo spiegano parte anche dell'attualità, così. Giusto per ricordarlo, perché sennò uno pensa sempre che la storia è un qualcosa di lontano, di inutile, di polveroso da lasciare nei libri o nei documenti, che ovviamente è esattamente il contrario di quello che voglio fare io, nel senso di togliere la polvere, di svecchiare, di dare un senso di apertura, di condivisione, di divulgazione, di conoscenza la più ampia possibile anche di temi così piccoli, così minuti, così che però ci danno un significato profondo a delle comprensioni molto più ampie. Detto questo, come al solito, vi invito a mettere mi piace, iscrivetevi al canale e come al solito, alla prossima, ciao!